Benvenuti amanti delle storie horror in questa nuovissima reaction! Dopo l'episodio 1 e l'episodio 2 di storie vere di paura sul dark web, oggi facciamo il tris! Come sempre vi lascio i video originali in descrizione, ma vi avviso fin da ora che queste storie vere sono davvero inquietanti! Quindi, se stanotte vuoi dormire senza incubi, non guardare questo video! Quando andavo alle scuole superiori, ero un patito del deep web! Ci andavo praticamente tutti i giorni, prima della scuola, dopo la scuola, dopo l'allenamento di basket e prima di andare a letto! Ci andavo quasi sempre! Eh però, amico mio, hai dei seri problemi se ci entri ogni minuto della giornata! Chattavo sempre con questo tizio perché mi sembrava molto simpatico! Mi mandava sempre dei link a video divertenti, ma dopo tre mesi tutto cambiò! Mi mandava sempre link di strani video e di strane live! E tu ovviamente ci clicchi? Mmm, cominciamo male! Così un giorno aprì un live streaming! C'era una donna incatenata ad un letto ed imbavagliata! Chiusi subito lo streaming cercando di aprire qualcos'altro, ma il mouse smise di muoversi! Beh ragazzi, possiamo dire che se l'hai meritato? Possiamo dirlo! Poi ha iniziato a muoversi da solo, andando a riaprire lo streaming della donna incatenata! Un cursore un po' poltergeist, ma facciamo finta di niente! Quando il video si riaprì, la donna era ancora lì! Un uomo con un sacco sulla testa apparve sullo schermo! Ma stiamo scherzando o che cosa ragazzi? Mi sto cominciando ad andare in defibrillazione! Il sacco aveva un buco dal quale usciva un solo occhio! Poi ha mostrato un tavolo con sopra una sega, una pistola, delle forbici ed un rasoio! L'uomo si è poi girato e ha detto alle telecamere, sceglietene uno! Perché esistono queste chat, questi live streaming sul dark web? Porca miseria ladra schifosa! Tutti hanno scelto le forbici e il rasoio! Tutti questa mandria di pazzi squinternati! Ha scelto una lama e un rasoio, non tutti! E lui le ha rasato la testa! Poverina, santo cielo, poverina! Dopo di ciò, ha detto, sceglietene un altro! E tutti hanno scelto la pistola! Lui l'ha presa e gliel'ha puntata alla testa! E non ti permettere, eh? Non ti permettere, stai rischiando una scarica di schiaffi! Vengo lì, eh! Lascia stare quella povera donna! Mentre la donna stava urlando, io sono riuscito a riprendere il controllo del mouse e ho chiuso lo streaming! Stavo pensando, ma che cosa sto guardando? Poi il mouse ha cliccato su un altro streaming! Era lo stesso uomo di prima, con alle spalle quello che sembrava un secchio con dentro dell'acqua bollente! Non ti azzardare! Non ti azzardare! Ho provato a riprendere il controllo del mouse, ma non ci sono riuscito! Poi ho sentito un'altra donna piangere sullo sfondo! Non una! Due ne ha catturate! Sta bestia di satana! Ragazzi, scappiamo tutti quanti in Messico! La telecamera ha ridotto lo zoom e sullo schermo sono comparsi un secchio d'acqua bollente, una mazza da baseball e un lanciafiamme! Neanche nei peggiori bar di Caracas popolati dall'Isis, una roba del genere! Poi l'uomo ha detto, quale uso? La chat era indecisa tra il secchio d'acqua bollente ed il lanciafiamme! Così l'uomo ha detto, gli userò entrambi! Oh, ma usa tutte e tre, anche la mazza da baseball! Picchia la donna, buttala nel secchio e dagli fuoco, dai! Ha spinto la ragazza in lacrime in avanti, per poi puntare il lanciafiamme verso il secchio e aprire il fuoco! Annaggia, tutti gli dei dell'Olimpo! Tutti gli dei dell'Olimpo! Poi ha incatenato la ragazza alla sedia a rotelle! Ora l'acqua del secchio era rovente! Non voglio guardare! Non voglio guardare! E la ragazza ha iniziato a urlare e scalciare ancora di più! L'uomo ha chiamato un suo amico! L'hanno slegata, presa in braccio e lanciata nel secchio! Eh no, eh no, eh! Lo schermo è poi diventato nero, ma potevo sentire benissimo le urla e i rumori della ragazza, allarmitissimo oltre ogni misura quest'oggi! Per circa due minuti non ho sentito altro, poi ha smesso! Lo schermo si è di nuovo illuminato e ha fatto lo zoom sul secchio! I due uomini sono rimasti in piedi a fissare la telecamera, respirando pesantemente! E la donna? Non so come spiegarlo, ma era terribile da guardare! Mi è venuta la pelle d'anatra anche sul pube! Poi lo streaming è terminato! Io ho chiuso tutto e sono rimasto in silenzio per un po' Come minimo ti aspettano sette giorni di terapia intensiva in qualche ospedale psichiatrico! Caro mio! Onestamente? Onestamente cosa? Sono stato nuovamente sul deep web! Allora sei proprio un tremone robotico! Di la verità! Perché ciò che ho visto mi è piaciuto! Voglio che tutti quanti chiamiamolo la polizia e gli diciamo che c'è un pazzo squintornato in giro per il mondo! Ci sono molte persone come me là fuori, più di quante pensate! Maronne, santissima! Fate sempre molta attenzione quando andate sul deep web! Ai la miseria! È apparso dietro la schiena! Cosa significa? Che le vittime sono quelle che in realtà guardano i video? Bello, bello, bello! Sono inquietato al punto giusto! E adesso via con la seconda! Ma... Non so perché io lo abbia fatto! Penso che sia avvenuto per la troppa curiosità! Tutto iniziò qualche anno fa Mentre guardavo un video di YouTube sul mio computer! Niente di impegnativo! Solo qualche storia vera sul deep web! Come la nostra! Ma... Rimasi sorpreso nello scoprire quanto possibili e realistiche sembrassero quelle storie! Ogni sera mi sparavo un episodio prima di andare a letto! Proprio come noi! Poi passai dalle storie horror ai video tutorial su come accedere al dark web! Ecco adesso ragazzi questa è stata la cazzata! Ma è rovinato questo qui! E su quale software usare per proteggersi dai malintenzionati? Tipo un antivirus! Non avevo intenzione di usare questi programmi! Volevo solo imparare qualcosa di nuovo! Tuttavia alla fine ho rispettato la regola d'oro di non entrare nel deep web! Dimenticandomi anche come si facesse! Meno male! Devi ringraziare tutte le divinità dell'Olimpo e non solo! Circa tre settimane fa decisi di vedermi un altro di quei video inquietanti! Subito dopo vidi un video su come accedere al deep web! Sgarbellato! Dopo se ti succede qualcosa sono solo diavolacci tuoi! Ecco cosa sono! Ero estremamente annoiato così decisi di scaricare l'antivirus e pianificai i siti web che avrei visitato! Schiaffi e contro schiaffi! Dopo circa 30 minuti dall'installazione mi resi conto che per usare il programma al 100% avrei dovuto pagare! Quindi è entrato nel deep web senza antivirus senza il programma giusto! Quindi adesso rischia di essere hacker! A quel punto non mi rimaneva altro da fare che restare nel deep web senza una protezione! E' arrivato! Ma cosa stai dicendo? Ti stai meritando il mega mongolino d'oro eh! Alla fine bastava non entrare nei siti più pericolosi no? No no non basta questo! Non è che... Andiamo avanti ragazzi! Non ne voglio parlare! Alla fine mi sono annoiato della normale internet! E mi sono trovato su una pagina di ricerca del dark web! C'era una lista di prodotti e servizi! Rimasi colpito da un sito che ti permetteva di osservare un sacco di videocamere! E' effettivamente non è male come idea! Sarei curioso anch'io di cliccare su questo sito! Ma siamo nel dark web! Probabilmente le telecamere erano hackerate e sparse in tutto il mondo! Ma Ron esattissima molo hackerano anche a lui! Sicuramente! Sicuramente! Che spettacolo pensai! Vorrei tanto essermi fermato in quel momento ma la mia curiosità era troppa! E va bene qua ti capisco eh! Ti capisco! Decisi di aprire il sito web ritrovandomi poi di fronte a centinaia di videosequenze! Tutte videocamere diverse e in diversi posti del mondo! Decisi che sarei tornato su questo sito web più tardi! Provai a cliccare il tasto indietro per uscire dalla pagina! Ma questo non rispose al mio comando! Ecco lo sapevo! Lo sapevo! Adesso ci fa cagare addosso questo qui! Addosso! Si bloccò per circa due minuti e poi si chiuse da solo! Ero un po' confuso per quello che era appena successo! Ma non ci pensai più di tanto! Poi, questa mattina, ci riprovai! Era la prima volta dopo tre settimane, per l'esattezza, che non entravo nel sito web delle telecamere di sicurezza! Onnesantissima! Questa volta tuttavia sembrava molto diverso! Invece di centinaia di diverse sequenze video era presente una sola sequenza! Ho capito ragazzi, ho capito! Riconobbi immediatamente che si trattava della mia camera! E mentre guardavo la telecamera sopra il mio computer, l'immagine sullo schermo riproduceva il mio movimento con solo un secondo o due di ritardo! Sullo schermo apparvero anche delle istruzioni! Ho fatto tutto perfettamente! Ma con chi sta parlando, uè? Ma che sfacimmo qua? La visione di questo video permetterà agli eventi di fare il loro corso! È ubriaco? Mi dispiace, tu non hai fatto nulla di male! Ma tutto questo è ingiusto! Una persona come me sa che le altre persone sono curiose! Mi piace come sei vestito! Si abbina al colore dei tuoi capelli! Eh sì ragazzi, probabilmente sta parlando con noi che stiamo guardando questo video! Quindi ci sta condannando a una vita di sofferenza! Mi state dicendo questo? Potresti essere confuso, non ti preoccupare, ti contatteranno presto! Cosa? Mi contatteranno presto? Non dire parolacce, che chiamo la polizia! Praticamente mi sta dicendo che io che ho guardato questo video, ma non solo io, anche voi che l'avete visto attraverso di me, siamo tutti condannati ad essere spiati attraverso la webcam o la videocamera del nostro dispositivo dal quale stiamo guardando questo video! Ssh, ssh, uè, tremo! Non fare scherzi, eh! Beh ragazzi, che dire, io sono molto contento delle due puntate di oggi! Non vedo l'ora di vedere i vostri commenti per sapere, anche da parte vostra, se vi siete terrorizzati una volta tanto oppure no! Io personalmente sono rimasto molto colpito, eh! Molto colpito! Ciao!